L'irruzione di una quarantina di persone nel reparto di oncologia dell'ospedale di Pescara dopo la morte di un loro congiunto ha riproposto il problema sicurezza all'interno del nosocomio pescarese. Il caso è finito sul tavolo del prefetto che ha incontrato il direttore generale dell'ASL di Pescara, Vero Michitelli, che ha ricevuto anche la solidarietà del questore. Ho trovato una grossa vicinanza, ieri ho partecipato a un comitato sulla sicurezza, quindi la vicinanza del prefetto, del questore, anche della procura, il comandante dei carabinieri era presente insieme al comandante della guardia di finanza, la vicinanza delle istituzioni c'è. Le forze dell'ordine hanno la capacità di intervenire anche in due o tre minuti, quindi su questo ci lavoreremo e staremo attenti. Questa mattina sopra al luogo con le forze dell'ordine in ospedale per studiare nuove misure di prevenzione sul fronte della sicurezza. Stamattina abbiamo avuto anche la visita del questore e del prefetto, abbiamo fatto un sopralluogo sugli eccessi, sempre per studiare tecniche di sicurezza e migliorare la sicurezza dell'ospedale, dei lavoratori e anche dei pazienti. Quindi sicuramente faremo dei miglioramenti. Sarà rinforzato anche il posto fisso di polizia, cercheremo anche di mettere a disposizione il sistema di videosorveglianza con il posto fisso di polizia, anche per migliorare la rapidità dell'intervento delle forze dell'ordine in caso di situazioni di crisi come quelle che si sono verificate. Il direttore generale della ASLA ha incontrato i medici ed il personale sanitario e parasanitario di oncologia per manifestare vicinanza e solidarietà. La paura negli operatori è del tutto evidente perché io li ho visitati in più occasioni e loro hanno avuto chiaramente un danno psicologico più che un danno fisico. Un danno psicologico nell'ambiente di lavoro è particolarmente grave. Poi gli operatori sanitari si occupano di salute, accuriscono i malati, quindi la violenza su di loro non è accettabile. Il grado di turbamento emotivo è del tutto evidente. Io ovviamente gli ho dato la mia solidarietà e il mio sostegno. Quello che adesso si deve fare è migliorare il livello di sicurezza. Lo faremo.